Grande Ale, grande! Mamma mia, che energia! Che fuoco sacro che esprime attraverso gli occhi! Bisognerebbe avere attrici con questa energia! Brava, brava, brava! Certo, poi non mi dire che sei stanca, perché se me lo dici con quel sorriso non ci crede nessuno. Ci hai provato, hai fatto la furbetta! Però dai, avanti, ma chi ti crede? Brava, così, continua così. E anche noi, il 31 è la giornata mondiale per la sindrome di Down, bisogna fare una donazione per permettere a persone così belle come Alessandra di poter avere ancora più soddisfazioni, perché qualcuno che cerca di fare qualcosa di artistico nella vita deve essere sostenuto. Punto! Adesso non capisco come si chiude, perché non voglio guardare in basso, ecco, l'ho visto! Mi raccomando!